27 opere d'arte appese alle pareti di un lussuoso appartamento a Fontana di Trevi. È il tesoro che finanzieri e rossa hanno rinvenuto nell'immobile già posto sotto sequestro lo scorso 12 novembre all'ex boss della banda della Magliana Ernesto Diotallevi. Quadri di Giacomo Balla, Mario Schifani, Sante Monachesi, dipinti di scuola romana, campana e francese dell'otto e del novecento e poi mobili di antiquariato, di ingente valore, un pianoforte di mogano, tavoli intarsiati, specchiere che insieme al restante 50% delle quote societari dei due SRL ammontavano ad un valore di quasi un milione di euro. Tra le opere di Balla anche un trittico a tempere e poi dipinti di Franco Angeli, Norberto Proietti, Ana Maria Loran, Antonio Balbo, detto Abbatè, Aldo Riso. Diotallevi era il boss di una delle bande criminali più potenti degli ultimi 30 anni, attiva soprattutto nel Lazio ma i cui legami con vari boss della mafia siciliana hanno già ottenuto numerosi riscontri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.